Ma buongiorno. Ma vaffanculo invece. Perché? E perché questo qua. Buongiorno. Buongiorno. Vaffanculo. Ah. Un'altra volta. Spostrano. Federico, do una paletta andata la boccia. Ma perché? E beh, sì. Quando sto facendo qualcosa, la... Ma che stai a fare? E sto facendo questo che sono incazzato. Perché stai incazzato? E perché sì. Buongiorno. Buongiorno sto cazzo. Ah. Ma buona domenica. Ma buona domenica. Sto cazzo buona domenica. No. Ma perché? Perché sì. No. Sempre così. Che stai a fare? La sega. E dopo? Dopo che fai? Oh. Oh no. Un po' da sicuro. Pure? No. E poi? E per finire? Oh. Mi è più sporco. Ma non è più? No. 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 Era più sporco. Cioè... Dai, è più sotto braccio. Lì qui. Sotto le poccine pocciò. Vattene la paletta andata a dentro. Attenzione perché oggi vi farò degustare. Anzi farò vedere perché me la degusto io. la mitica pasta al forno di Nonna Maria, eh? Sì. Questa con che è? Questo è i funghi porcini, baciamella e mozzarella. Baciamella, capito eh Nonna Maria? E baciamella. Speriamo. L'arte con la chiude. È la chiude? Pronto? Vai, chiude, vai. Vale. E vai. Eccola. Mariadona. Oggi mi voglio stirare. L'arte con la chiude io. Tu invece... Vuoi incalcio questo? L'olio mi fai buttare. L'olio costa 10 euro al litro. No, che è calato. Questo è il nero. Beh, l'arte con la chiude. Ti trema un po' la mano però, eh? Che ti trema? Che ti trema? Vattene, mi fai cazzare. Ma, se metto l'olio mi dà la botta di tibraggio. Mi fai cazzare, no? Lasciola dire che è piada l'olio. Ma che ti trema? Ma, vattene, vattene. Eh, ma... Va bene. Ah. Va bene se sta per bene. Oddio, scusa. Guarda come scalcia. Mamma mia, come scalcia. È un somaretto. Visto come fa lo scorpione? Zà, così. Zà. Mamma mia, ragazzi. Che potenza. Bravo, no? Iniziamo con crostino patè. Intanto mi state scrivendo dove trovare i prodotti. Fate swipe e andate a vedere. Faustino! Va fan culo. Faustino! Va fan culo. Faustino! Va fan culo. Va fan culo. Faustino. Va fan culo. Faustino. Va fan culo. Che? Faustino. Fa un sorrisino. Guarda di qui, dai, un attimo. Sì. Dai, che sei un burbero dal cuore d'oro. Dai. Vieni qua. Fa un sorrisino. E guattane. Fa un sorrisino. Sorrisino. Va via. Fa un sorrisino per... Sì, va bene, ma vattene. Fammi vedere. Fa un sorrisino per la stampa, dai. Per la stampa o no? Fa un sorriso per la stampa. O no? Fallo? Te... Chi mi fa ridere? Io? Guarda, guarda. Ti fa così. Non mi fa ridere. Fa un sorrisino per la stampa. Ma no da ridere. Dai, fa un sorrisino. Non piangere. Fa un sorrisino. Vattene! Fa un sorriso. Un sorriso, là. Dopo... Oh. Che bella foto. Nonna Maria e nonno Faustino da giovani. O no? Nonno. Nonno. Come vuoi? Su quella foto quanti anni c'avevi? Sì, 21. 31 anni. Mangiano la pasta in bianco al forno. Eccola. Il viziato mangia così. Lui è il viziato. Lui è il viziato. Lui è il viziato. E tu sei strunzo. E lui è il viziato. E tu sei strunzo. E lui è il viziato. Guardate che spettacolo. Pasta al forno. Fumante. Sentite. Che profumo. Buona via. Buona via. Number one. Ecco, e ora se li mette. Se li mette a me. Va via. Se li mette. Dammi retta. Va via. Il Papa se li mette. Dammi retta. C'ha le ore contate. Adesso lo dice in televisione. Ti dice che va via. Se li mette. Se li fa via. Che sei li... E' un tetto di cazzo. Ma perché? E' un tetto di cazzo. Perché? Goccino d'acquina. Ma te lo... 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 Toccaglielo le palline. Oh no. Fa così. Tocca le palline dal cazzo. Ma te lo sacco di coglione. Ma toccaglielo le palline. Ma tocchile tu. Toccaglielo le pallettine. Sì, sì. Una pennichella insieme. Ah, che sega. Io e te sul lettino. Ma sciacca di coglione. Va a fangulo. Ah. Ma sul lettino. Ma che vuol dire a fangulo? Oh. Dopo dici. Svevi via di casa. Guardate che bello. Guarda che... Che scenario fantastico. Rosario. Che hai fatto? Beh, stavo infelciando lo so. Sempre gentile tu, eh. E' un mancoffo che lo vieni da partire. No, te lo volevo aprir questo. Gloria al padre e al figlio. Volevo aprirlo. Volevo aprirlo. Non amare, vay. Vai, canta. Tu canta. Ave, ave. Maria Zanza Ehi Guardate Cosa sto indossando Eccola qua La grandissima Zigianna Sempre nei nostri cuori Se andate sul sito www.carlettolife.com Fate swipe up Trovate anche il primo merchandising In più Chi acquista Da oggi Mandandomi lo screen Su Instagram Lo seguo Fino a domani Alle 21 Quindi Swipe Forza coccodrilli Mandatemi lo screen Che c'ha? Nel buco perché Prima ti ho dato La scopa Non tolto Ma Adesso io il bastone Ma dai un bucino Gli serve Sta buono Sta buono Violento Ma non gliel'ho fatto ancora il buco Adesso si Adesso si Questo è un stronto Proprio uno stroncio Perché? Scusa dai Salve te Tu sei un testa di cazzo Lucchiere Ma perché? Un testa di cazzo Atomico Ma no Sì 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 Che pena Tu Quando Mi è Terima Casca Tutto No No